Salve a tutti uocikebari e benvenuti nella mia personale tier list dei cartoni animati perché a quanto pare molti di voi apprezzate il The Cartoon Show quindi ok vi avverto che questa classifica è sul cartone e non sul personaggio della foto i Peanuts vanno subito in A, adoro Charlie Brown e Snoopy, il film Snoop and Friends è bellissimo e questo cartone è bello Garfield non lo so, non l'ho mai trovato così tanto speciale però il personaggio mi piace quindi sì, bello il The Cartoon Show Tartaruga Ninja, beh lo vado a mettere subito in A anche se io sono più affezionato a quello della Nickelodeon Transformer non l'ho mai visto questo cartone, questo neanche, questo neanche Duck Tales, non l'ho mai visto i Simpsons vanno subito in A, mi piacciono oltre che poi adesso li potete vedere pure su Disney Plus i Simpsons che è abbastanza bizzarro da pensare però vabbè i Griffin li ho sempre odiati, non mi sono mai piaciuti, proprio no South Park lo metto in A perché è divertente, è un cartone esagerato poi i quattro protagonisti sono molto simpatici Topolino, la casa di Topolino a me piaceva, lo metto in B Futurama lo metto in B, alla fine comunque è un bel cartone, sì, mi piace so che a molte persone piace un cartone famoso ma io vi giuro non ho mai visto nessun episodio di Rick e Morty so che è strano ma io non ho mai visto Rick e Morty come questo del cavallo stessa cosa, questo no ok, allora questo è Batman di Animated Series lo metto in A perché me lo ricordo gli episodi sono molto interessanti poi adoro anche Batman e Gotham è la mia serie preferita Superman non me ne frega un bel niente ah, il laboratorio di Dexter va subito in S adoro questo cartone la sigla italiana è stupenda Johnny Bravo non mi è mai piaciuto tanto, essere sincero mucca e pollo è esagerato ma la sigla è bella questa è la storia di mucca e di pollo due schiavezza collo pronti al decollo lo vado a mettere in in questo le super chicche non mi sono mai piaciute però non è un cartone che odio ah, i Looney Tunes Bugs Bunny in realtà mi sto un po' antipatico me lo metto in B perché la maggior parte dei Looney Tunes mi piacciono Ed e Dead ma guarda subito in S Ed e Dead è un cartone stupendo guardatelo la sigla è meravigliosa stessa cosa per Leone il Cane Fiffone Samurai Jack lo conosco ma non ho mai visto nessun episodio questa è Bill & Mandy le telebrose avventure di Bill & Mandy giusto? carino sì però non mi ha mai fatto impazzire questo non l'ho mai visto Star Wars non mi piace per niente mai visto mai visto mai visto Ben 10 ragazzi Ben 10 l'originale va subito in S cioè mi piace tantissimo Ben 10 non riesco a spostarlo prima di ecco che braccio di ferro lo mettiamo in B comunque è molto bello braccio di ferro mi piace però è da tanto che non lo vedo questo non so che cacchio sia non so che cacchio sia Adventure Time A bellissimi personaggi episodi ne parerò sul The Cartoon Show questo non mi ricordo come si chiama ma è quello dove il personaggio al posto delle braccia ha tipo delle enormi braccia meccaniche era interessante The Regular Show è famoso ma non ho mai visto nessun episodio anche il Grandpa mi sta antipatico seriamente proprio il personaggio il protagonista sto qua non mi piace stessa cosa per Clarence ha tutto reality bello però ho visto solamente la prima edizione basta vabbè i Titans originali sono carini belli però non ho mai visto tanto il cartone però me lo ricordo era bello si tra V di Woodpecker lo mettiamo in C anche lui Tom e Jerry ma guarda subito in S è bellissimo Tom e Jerry io li adoro Gambo lo metto in A è un cartone bello ma a volte un po' troppo esagerato i Flintstone boh non ne ho idea lo metto in C questo non l'ho mai visto l'orso Yogi lo metto in B perché sono più affezionato a questo orso rispetto a sto qua Scooby Dooby Doo Where Are You ti metto anche te è in A perché sono affezionato tu non so chi cavolo sei ti ho già visto ma non mi ricordo il nome questo neanche Steven Universe va subito in A non lo considero un capolavoro però è un bel cartone anche se all'inizio non lo guardavo per niente ok KK non l'ho mai visto tu non mi ricordo come ti chiami i Ragrats i Ragrats penso che non li conoscete diciamo che i protagonisti sono dei bebè dei poppanti però il cartone è bello sì il film lo trovate su Netflix questo non l'ho mai visto questo non l'ho mai visto ma lo conosco Ehi Aaron non l'ho mai visto mai visto Cat Dog va subito in S seriamente Cat Dog è un cartone che sono molto affezionato tu non so che cavolo sei Spongebob S il mio cartone imato preferito Invader Zim e yeah il tuo fan da genitore lo metto in A perché è un cartone che mi piace però le ultime due stagioni fanno schifo tu non ti conosco Jimmy Neutron ah ragazzi Jimmy Neutron lo metto in B perché comunque è un cartone bello figo però vederlo adesso l'animazione non è un granché comunque My Life is a Teenage Robot non so se qualcuno lo conosce però mi piaceva lo metto in B ma non è durato tanto Danny Phantom non l'ho mai visto nessun episodio Avatar quello di Hank lo metto in A perché è un cartone molto bello però all'inizio è abbastanza noioso questo è Barnyard Ritorno al Cortile ecco io adoro il film però non l'ho mai visto questo Johnny Test l'ho visto carino questo non so che cavolo sia i pinguini di Madagascar vado subito a metterli in S adoro il film adoro il cartone Fanboy e Cham Cham non l'ho mai visto nessun episodio Tough Puppy l'ho visto era carino comunque poi adoro tanto la gatta Kitty Kelwis ok Kung Fu Panda mitiche avventure comunque è un cartone simpatico bello ma i film sono superiori questo non l'ho mai visto Rabbids sì mi piacciono non ti ho mai visto da respiratrice ok tu non ti ho mai visto tu non ti ho mai visto my little pony my little pony my little pony my little pony non è un cartone idiota stupido cioè parla di tante tematiche importanti nella vita sono interessanti cioè non so ragazzi ho indeciso o A o S lo metto in S tu non so che cavolo sei tu non mi ricordo perché c'è Stitch di Lilo e Stitch non ne ho idea mai visto mai visto non ti ho mai visto non mi ricordo che cavolo sei te mai visto mai visto Fine S e Ferb ah gente P va subito in S Fine S e Ferb è un cartone che mi piace tantissimo tu non ti ho mai visto Gravity Falls ancora non ci credo che sia della Disney ma lo metto in A perché comunque è bello Gravity Falls è molto figo hanno fatto quante due o tre stagioni non mi ricordo tu non so che cavolo sei non so che cavolo sei Rapunzel Boo ah Casa dei Loud è bello come cartone sì mi piace molto il protagonista anche la storia che lui che vive con queste dieci sorelle è Ladybug non ti ho mai visto e non me ne frega niente di te ecco però so che a molte donne femmine piace Ladybug però a me non ispira quindi questa è la mia personale tier list dei cartoni animati pochissimi li ho messi in S tanti in A e B pochi in C questi non mi piacciono per niente mentre tutti questi altri non li ho mai visti sul serio DuckTales Rick and Morty questo del cavallo BorgSedge Horseman non mi ricordo niente pure regular show devo vederli questo è tutto per il mio video della tier list e basta quindi ciao ciao